ecco che se andiamo sul profilo l'ennesimo profilo fake di Federico De Massis che ama farsi chiamare Task Force Butler profilo fake che viene usato per diffamare sistematicamente il sottoscritto andiamo a vedere tra gli amici di De Massis che la magistratura ancora non ha voluto perseguire chissà per quale motivo andiamo a vedere tra gli amici di De Massis chi troviamo ma guarda un po' che coincidenza Massimo Fiova della Schiava Massimo della Schiava ma poi Andrea Salsi del CICAP e poi troviamo anche alcuni profili fake di Angelo Nigrelli alias Wasp lo stesso Angelo Nigrelli il profilo fake di Angelo Nigrelli Mario Lippuma Fabio Casonato del CICAP Fulvio Turvani Lorenzo Bertoni Marina italiana Massimo della Schiava è quel famoso geologo che ha fatto scaturire la perquisizione ed il sequestro hardware a cura del magistrato di Imperia Maria Paola Marrali lui vorrebbe essere definito scienziato ma in realtà guardate un po' se la fa con Task Force Butler che quotidianamente andiamo a vedere la cartella dello spam quotidianamente invia messaggi di stalking al sottoscritto già che non può più mandarli per area commenti sul blog lo stesso Task Force Butler che ha fatto le segnalazioni in giro per il mondo e che ha aiutato la magistratura ad invastire diversi processi contro il sottoscritto ecco allora avete capito chi sono questi scienziati che la magistratura tutela processando Marciano Rosario ecco Massimo della Schiava geologo ha lavorato per il CNR si occupa di discariche ma lui dice a tempo perso fa il debunker in realtà poi dal 2008 non fa altro che diffamare ultimamente si è un po' calmato perché chiaramente deve mantenere un po' l'idea che lui è uno scienziato e che a diffamarlo sia stato io e non lui me comunque questo è Massimo della Schiava ripeto tra gli amici di Task Force Butler alias Federico De Massis informatico di Pescara pluriquerelato e mai perseguito dalla magistratura Viva l'Italia